Oh, eccoci qua, bentrovati e benvenuti in questo secondo episodio di Come pronunciare bene i nomi dei Pokémon! Dopo il grandissimo, ma non troppo, successo del primo episodio, ho pensato, replichiamo, perché no? Avrei comunque fatto le altre generazioni. Ma oggi si passa alla seconda generazione. Come sempre vi ricordo che lo scopo di questo video non è imporre il modo corretto di dire i nomi, ma solo fare intrattenimento. Tra le altre cose, nello scorso video ho lasciato un paio di Pokémon della prima generazione, quindi rimediamo. Magnemite e Magneton, dato che sono entrambi dei Pokémon Magneti, e in inglese Magnete si dice Magnet, è chiaro che i Pokémon vadano pronunciati Magnemite e Magneton, dato che noi prendiamo a piene mani dall'inglese. E anche il Pokémon Tangela, dato che in inglese Tangela sarebbe la corruzione della parola Tangled, allora andrebbe pronunciato Tangela. Entriamo quindi nella seconda generazione. Ci sono tantissimi Pokémon all'inizio che salterei, perché bene o male gli starters li ho sempre sentiti pronunciati bene, i Pokémon dei primi percorsi anche loro sempre pronunciati bene, e direi di partire con... Chinchou. Ora, io questo Pokémon non l'ho sempre chiamato Chinchou. Non ricordo di preciso com'è che ho iniziato a chiamarlo Chinchou, o Chinchou, addirittura gli elementari, ma... non lo so, leggevo il nome Chinchou, poi a un certo punto ho cambiato Chinchou, in realtà andrebbe pronunciato Chinchou, dato che viene dal pesce lanterna, quello che il Pokémon è. E... è letteralmente la parola giapponese, però con Chinchou scambiate. Lanterna sarebbe infatti Chouchin, e lui Chinchou. Poi abbiamo qualche baby Pokémon, che possiamo saltare tanto Pichu, Cleffa, Iglybuff, Togepi e Togetic, bene o male, li pronunciamo tutti quanti così. Arriviamo a Natu e Zatu. Ora, perché Zatu e non Xatu? Io l'ho sempre letto Xatu, e credo che tutti quanti noi italiani l'abbiamo sempre letto Xatu. Il problema viene dal fatto che in inglese, o in americano anche, la X, quando è la lettera iniziale, non si sente la C, ma si sente solo la seconda lettera, che è la S, e sembra quasi una Z. Quindi C-S diventa Z, e si legge Zatu. Come scusa, fa schifo dire Zatu? Sì, fa schifo anche a me. Infatti lo chiamo ancora Xatu. Poi saltiamo un bel po' di Pokémon, e arriviamo a Espion e Umbreon. Io devo ammettere che Espion e Umbreon li pronunciavo Espeon, vabbè, questo bene o male rimane uguale, e Umbreon. Perché la U diventava una A? Non ne ho idea, il mio cervello mi diceva pronuncialo Umbreon, è corretto, invece no. In inglese, ombrello, si dice Umbrella. Perché la U diventa una A? Per la parola Umbrella. Stupendo. I loro nomi sono formati da Espion, Esper e Ion, eone, ovvero un'enorme quantità di tempo, e Ion era anche il nome base di Ivi, se non erro. E Umbreon, esattamente per Ion, la misura del tempo, e Umbra, che significa la parte più buia dell'eclissi. Ombra, il latino. Poi abbiamo il bellissimo Pokémon amato dalle streghe, ovvero Murkrow. Sì, anche questo, molti lo pronunciano Murkrow o Markrow. Andrebbe detto Murkrow, perché suo nome proviene da Murk, che vuol dire oscuro, oppure Murder, omicidio. E sinceramente non mi piace molto questa pronuncia, infatti lo continuo a chiamare Markrow. Io cerco di correggermi sempre sulla pronuncia dei Pokémon, ma questa volta non posso lasciar correre, è davvero fastidioso dire Murkrow. Saltiamo quindi Slowking e arriviamo a Mischievous. Mischievous. Ora, Mischievous è terribile da pronunciare. Avrò sbagliato questa clip 50 volte prima di dirlo correttamente e non la farò mai più. Infatti lo chiamerò Mischievous, continuerò a chiamarlo Mischievous perché è impossibile da pronunciare. Viene dalla parola Mischievous, che vuol dire malizioso, e Dream, che sarebbe sogno, ma si pronuncia Dream. Quindi Mischievous, Mischievous, tremendo davvero. Posso saltare Anon, ma non posso saltare Wobbuffet. Wobbuffet è sempre stato pronunciato correttamente da tutti, ma nell'anime, non so per quale assurda ragione, hanno cominciato a chiamarlo Wobbuffet. Ma lo senti anche quando lo pronuncia il Pokémon? Dice Wobbuffet, perché chiamarlo Wobbuffet? Il suo nome viene dalla parola Wobble, che vuol dire appunto dondolare, e Buffet, che vuol dire buffetto. Pineco e Fowretress. Dunque, Pineco e Fowretress bene o male li ho sempre sentiti pronunciati bene, ma qualcuno dice Pineco e... no, dai, Pineco. Perché Pineco? E viene da Pinecon, che è appunto la... che è appunto la pigna. Possiamo saltare un'altra bella carrellata di Pokémon e arrivare a Slugma e Makargo. Makargo, tutti quanti bene, tranquilli, bravi, ma Slugma no. Anch'io tante volte l'ho letto Slugma, ma quando poi ho scoperto che era basato su una lumaca, e lumaca si dice Slug, ho detto vabbè, Slugma, chiaro come il sole. Infatti il suo nome viene da Slug, lumaca e magma, Slugma. Passiamo quindi poi a Swainab, che bene o male tutti quanti pronunciamo Swainab, ma la sua evoluzione, Piloswain. Piloswain. La I non si sente quasi, e Swain appunto è maiale, e Pilos sta per Pilos, che vuol dire appunto peloso, ma Bulbapidia sostiene anche che derivi da Pil, che è ebraico per dire elefante. Potrebbe essere data la sua evoluzione in Mammoth. E ora, il peggiore di tutti. Lugia. Arriviamo all'ultimo Pokémon per la seconda generazione. Il peggiore di tutti. So bene che il Pokédex sul 3DS dice Lugia, ma non è esatto. Se vogliamo farla breve, possiamo fare riferimento al nome giapponese che è Lugia, e potrebbe finire lì. Ma il suo nome è stato preso da Lutia, che è uno dei primi nomi per il Leviatano, e da Beruga. Beruga, Lutia, Lutia, Berugia. Fanno Lu-gia. Non è Lugia. Ho letto tantissime discussioni in commenti dei post di YouTube dove uno diceva Lugia, uno diceva che era Lugia. Vi siete scannati in tantissime sezioni commenti. Non è Lugia. Mettiamo fino a questa guerra. È Lugia. Se poi voi dite Lugia, o Lugia, fate come vi pare. Lo scopo di questo video non è imporvi nulla, ma solo intrattenimento. Bene, direi che abbiamo finito, e non ho lasciato nessuno mi sembra, ma nel caso l'abbia fatto lo recupererò nel prossimo episodio, quando tratterò la terza generazione. E in terza generazione sembra che bene o male tutti quanti pronunciano bene i nomi, ma sto vedendo già Robina che mi viene il frizzico pazzo solo a pensarci. All'ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fatelo. Mi date una grandissima mano, anche perché la percentuale di quelli che guardano i video non sono iscritti. Io non ho idea di come sia plausibile una tale situazione. Se guardate i miei video, sempre, iscrivetevi perché mi aiutate tantissimo. Non vi costa nulla, è gratis. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Bye bye! Bye bye!